Ti posso dire un aneddoto di questa cosa che racconto, mi sembra a pif nel programma, racconto che io rubavo gli autogrill perché consideravo una dittatura il fatto che non si potesse scegliere altro, ovviamente questo va in onda e quelli dell'autogrill si infastiscono, tra l'altro in quegli anni gli autogrill vendevano un sacco di libri, quindi io ho detto no qua non mettiamo più i tuoi libri, quindi subentrano i poteri forti, la Mondadori, allora dicono ok ci possiamo mettere d'accordo se chiedi scusa, insomma in sostanza chiedo scusa in radio, la cosa fa ridere perché mi chiedono dai allora facciamo un tour, prima ancora che io facessi un tour negli autogrill, viene a firmare delle copie negli autogrill così e loro mi mettono in un autogrill a Fiumicino, in aeroporto, mi mettono un banchetto proprio davanti con la gente che va e viene con i trolli di fretta, io lì col banchetto proprio un po', non l'hanno fatto apposta, però era un po' umiliazione del personale, te lo dico solo perché mentre io sono lì capito che giustamente avevo piegato e così passa e Antonello Venditti mi dà uno schiaffo sul coppino e mi dice una roba tipo ma che vita da merda che fai da roba qui c'è ciao Fabio e benvenuto al podcast ciao grazie senti nel tuo ultimo libro che si intitola tutto è qui per te che è questo c'è una frase secondo me emblematica adesso mi direi se ho ragione o no che dice il personaggio dice il protagonista sei un fuoriclasse nella prefazione, nell'inizio ma poi le tue attenzioni sfumano e piano piano vengono a mancare allora cambi perché bisogna di stimoli nuovi, di nuove conquiste io ho pensato questo mi sembra un po' il fil rouge della tua opera, dei tuoi libri, dei tuoi film si dà la mia vita più che altro ha senso questa cosa qua c'è sempre questa ricerca della felicità che però si sposa anche con la novità allora in realtà io ho diciamo da sempre anche da ragazzino ho sempre come dire non sono mai stato sedotto dalla specializzazione non ho mai voluto fare una cosa e diventare molto bravo in quella cosa non è tanto per la ricerca della felicità ho questa diciamo questa convinzione diciamo questo sentimento nel pensare che siccome ho una vita sola voglio provare più cose possibili cioè non voglio focalizzarmi in una tant'è che io quando vedo per esempio i campioni di sport che dicono non so penso al nuoto e dicono ho vinto la medaglia d'oro e poi dicono ma sai io da quando ho sette anni sto in piscina otto ore al giorno a nuotare i miei amici vanno in pizzeria vanno di qua vanno alle gite invece io capito quell'ossessione lì e io per esempio una cosa che non riuscirei mai a fare perché la medaglia d'oro per me non ripagherebbe di tutte le cose che ho perso però è un afformamenti sai che in effetti anche nella letteratura d'inizio novecento c'era molta adesso me l'ha fatto venire in mente con questo questo esempio era molto preso in giro il concetto di sport proprio come cosa in stupidente nell'uomo senza qualità di Musil mi sembra c'è questa cosa all'inizio perché effettivamente forse ce ne siamo dimenticati che guadagnano talmente tanto gli sportivi di successo si dimentichiamo che vita dura no fanno una vita d'inferno basta anche se leggi open anche se guardi il documentario di Michael Jordan se senti le interviste di Ronaldo che torna dalle partite a luna di notte col Pullman invece di andare a casa come tutti lui si mette nel ghiaccio perché così il giorno dopo può performare meglio cioè sono delle ossessioni che io le ho avute con il lavoro perché senza l'ossessione è difficile raggiungere dei risultati la passione ovviamente non basta però uno si chiede vale la pena vale la pena aver fatto quella cosa cioè è una scelta di vita ecco io ho sempre evitato quella cosa lì quindi io viaggio tanto vado in posti nuovi poi ho i miei posti preferiti dove ci torno però mi piace incontrare gente nuova fare cose nuove avere stimoli nuovi sono sempre curioso di quello che non conosco forse diciamo la costante sono stati la radio e poi anche i libri sì allora un posto fisso lo dovevo avere giusto per il mutuo no la radio è proprio la mia passione assoluta nel senso che c'è stato un momento nella mia vita in cui facevo la tv, la radio, il cinema, i libri e ovviamente lì c'era per esempio se avessi fatto libri e cinema avrei avuto come dire un percepito più alto la radio è sempre vista un po' come una roba già la parola dj che io tra l'altro non sono un dj però il dj non è mai come un attore è sempre così però ho proprio seguito la mia passione cioè io potrei rinunciare a tutto anche alla scrittura faccio più fatica a rinunciare alla radio la radio e la scrittura sono le mie cose più importanti la differenza è che la scrittura la puoi fare ovunque cioè puoi applicarla ovunque e decidi tu gli orari non hai un orario d'ufficio io posso scrivere in qualsiasi parte del mondo quindi non c'è lo stato in luogo la radio fino a qualche anno fa ti obbligava ad andare in quello studio in quella via quindi da stare lì adesso anche la radio si può fare ovunque quindi io ho ottenuto il mio sogno diciamo io posso continuare a fare i lavori che mi piacciono senza dover stare inchiodato tranne che adesso ho dei figli piccoli e quindi questo un po' mi limita beh però in realtà io mi ricordo che sin da giovane a un certo punto avevi un programma mi sembra sono in tv da Parigi ho fatto italo spagnolo da Barcellona in diretta poi italo francese da Parigi poi italo americano in giro per gli Stati Uniti sì ho sempre cercato di andare all'estero e te l'hanno anche fatto fare sì sì erano anni meravigliosi c'erano i soldi e le idee e gli imprenditori adesso ci sono i manager e non ci sono i soldi è interessante questa cosa cioè in che senso beh l'imprenditore e il manager sono proprio due attitudini diverse cioè tu hai un'azienda, sei un imprenditore credi non so in questo bicchiere ti faccio un esempio e tu ci credi fortemente lo metti sul mercato non funziona però tu dici io sono convinto che questo invece prima o poi funzionerà e lo tieni lì e perdi il primo anno perdi il secondo perdi il terzo e il quarto diventano per esempio i post-it sai i post-it gialli hanno quella storia lì messi sul mercato da 3M se non sbaglio un disastro ma quelli ci hanno creduto e proprio di che fattura il manager non ha questo atteggiamento il manager è alla fine dell'anno io devo fare 0,01 più mi basta questo per garantirmi il mio lavoro è perché il dividendi degli azionari e sono due atteggiamenti diversi una volta c'erano i direttori di rete quindi il direttore di rete per esempio io quando ho iniziato a fare le Iene era il secondo anno avevano fatto il primo anno era andato male ma Giorgio Gori ai tempi era il direttore ci credeva tantissimo ha fatto il secondo anno cioè il mio primo e andava un po' meglio il secondo anno mio che era il terzo anno delle Iene è diventato un programma del cult che nel senso è avuto molto successo e c'è ancora in onda perché il direttore di rete ci credeva adesso tu fai un programma in televisione fai 5 mesi se non hai risultati mettono un'altra cosa scimmiottando tra l'altro i programmi che vanno di successo quindi una specie di algoritmo della povertà sì c'è un po' la sensazione di eterna ripetizione anche nel cinema hollywood perché non c'è il coraggio appunto non c'è questo questo coraggio di rischiare quindi tu dici ok va la canzone latinoamericana e allora facciamo la canzone vanno gli show i grandi show del sabato sera con le persone che si esibiscono tutti va Masterchef 60 programmi di cucina è tutto un po' così perché appunto bisogna fare lo 0,01 a fine anno ma quando tu sei arrivato alla Iene secondo te quel tipo di profilo oggi potrebbe finire a condurre un programma così come quello è importante comunque su una rete nazionale cioè com'eri tu in quel momento no no lì non c'è più spazio credo per quel tipo di televisione perché non c'è più neanche un pubblico per quel tipo di televisione e c'erano proprio perché c'erano intanto oltre ad esserci direttori c'erano anche le reti che avevano un'identità Rai 1 era Rai 1 era quella diciamo i cattolici di una certa età dove parla il papa poi c'era Rai 2 che erano i programmi un po' più di intrattenimento e c'era Luttazzi c'erano una serie di altre cose poi c'era Rai 3 quelli un po' più di sinistra più intellettuali così dall'altra parte c'era Mediaset che faceva Canale 5 l'ammiraglia contro Rai 1 Rete 4 se la giocava un po' anche lì con gli anziani un po' così che era quella diciamo la Rai 3 dall'altra parte e Italia 1 che se la giocava con Rai 2 adesso è tutto un po' più omologato ma credo che l'età media sia anche tutta più alta in generale sono anche tutti più alti ovviamente la televisione si vede meno ma anche perché una volta se tu volevi vedere non so le Iene alle 8 e mezza dovevi essere a casa alle 8 e mezza adesso tu dici vabbè se non la vedo stasera me la guardo domani sull'iPad e quindi anche davanti alla televisione non c'è più la corsa di tornare a casa ma uno si riguarda le cose si riguarda quando vuole e poi ci sono le piattaforme ci sono i social ormai ci sono tante cose per essere intrattenuti è la tua preferita rimane sempre la radio si in assoluto la radio cioè da diciamo da uno che la fa la radio e la scrittura da invece diciamo da cliente io non ascolto quasi mai la radio ok e quindi la musica mi piace ascoltare la mia musica sì oppure se devo sentire uno che parla ascolto un podcast la regola di notori SPIG non usare quello che spacci è una roba del genere esatto io sono rimasto ancora leggo libri uso molto youtube io per esempio perché mi piace imparare e lì c'è un mondo intero cosa guardi su youtube? ma posso guardare da lezioni di storia lezioni di filosofia anche solo paesi cioè qualsiasi cosa basta che che cioè che mi diano qualcosa io un'altra cosa che non che non ho mai amato tanto è essere intrattenuto mi infastidisco da morire se vengo intrattenuto cioè lo posso fare per un'ora posso andare allo stadio vedermi una partita posso guardarmi un film magari ma non riesco a concepire l'intrattenimento quotidiano cioè questo chewing gum del cervello dove io sono lì e non non mi dà niente se non che mi fa arrivare all'ora per andare a dormire ecco sì magari il vantaggio con internet oggi è che ti scegli quello che vuoi esatto esatto e poi l'algoritmo in alcune cose è anche positivo perché ti suggerisce cose simili nell'altro è un po' limitante tant'è che ogni tanto mi faccio dare gli spotify sul telefono dei miei amici per vedere dell'altra musica sennò mi arriva sempre le robe che più o meno conosco o che mi piacciono quando ero ragazzino io avevo la tua età quando ero ragazzino che si andava a comprare i dischi i vinili e poi i cd così c'era il ragazzo che aveva il negozio di dischi come il libraio e ti diceva guarda se ti è piaciuto questo ascolta questo ed era l'algoritmo in persona ma c'era anche guarda è uscita questa cosa che non è il tuo genere però ascoltala e ti portava magari che non so ti ascolti il blues e poi in un certo punto trovi un disco rock che ti piace e tu vedi anche una continuità fra diciamo la radio e la scrittura perché io so che tu fai anche dei copioni quando vai a radio la prepari la puntata eccetera e poi invece la scrittura di libri allora si dice sempre che la radio sia un po' la sorella della televisione invece secondo me forse anche per quello che sono le mie due cose preferite la radio e la letteratura sono sorelle perché perché ovviamente se io dico o scrivo una casa col tetto rosso in riva un lago in Canada tu se lo leggi te la immagini se lo ascolti te la immagini se io faccio il cinema o faccio la tv è il regista che decide com'è quella casa com'è quel tetto rosso quindi la magia dell'invisibile appartiene alla radio e ai libri ed è la cosa su cui a me piace giocare di più perché mi piace creare appunto delle immagini nella testa degli altri ma invece il pubblico c'è questo rapporto col pubblico per te è utile perché nei tuoi libri anche nei film c'è sempre appunto come dicevamo prima questa ricerca della felicità la felicità comunque cambia cosa viene considerato felicità nel tempo e quindi avere diciamo sempre una controparte ogni giorno con cui che senti o attraverso i messaggi o quando fate le chiamate è utile per te no io ho diciamo ho un contatto diretto con quello che si dice il pubblico per esempio che un attore non ha esatto o a volte anche la televisione invece la radio sai ci sono i messaggi le mail poi la presentazione dei libri vengono un sacco di persone comunque mi parlano mi dicono mi fanno domande quello non mi condiziona tanto sul lavoro nel senso che io non ho mai non ho mai inventato una storia non parto mai da una storia dire ok questa funziona oppure questa piacerà io scrivo sempre per me cioè scrivo cosa mi piacerebbe leggere scrivo cosa cioè il riferimento ha una parte mia intima io con quella parlo quando scrivo poi ovviamente questo è il tredicesimo libro devo dire anche onestamente ho imparato anche un mestiere quindi magari quella cosa in più ce la metti perché comunque fa parte del mestiere però non è che siccome adesso la gente pensa che allora io scrivo una storia non l'ho mai seguita quella cosa lì e come è cambiato? cosa ti senti di essere migliorato? allora io ho fatto la radio ho iniziato con i fax arrivavano ancora i fax e ho fatto tutti diciamo i periodi politici anche ho fatto la grande battaglia Berlusconi sì Berlusconi no poi ho fatto l'arrivo della Lega poi ho fatto i 5 Stelle poi ho fatto Fratelli d'Italia adesso se me li sono visti tutti quelli che scrivono col nervoso diciamo a questo proposito proprio l'altro giorno ti stavo sentendo hai detto una cosa sul ponte di Messina e poi qualcuno ha mandato avevo visto un servizio su report e trovo veramente cioè mi viene all'inizio rimango basito che non sembrano vere quelle cose no? e poi poi invece dici boh non so e quindi poi dopo mi viene il nervoso e lunedì mattina sono andato in radio e ho sbroccato dopo perché ti sono arrivati dei messaggi dopo che hai detto questa cosa sì perché hai fatto molto ridere ogni tanto ancora mi infastidisco che invece so che non dovrei perché quello che cercavo di dire è che non si riesce più a fare un discorso di senso no? un discorso di senso cioè in casa mia con mio padre mia madre si facevano magari non intelligentissimi perché non siamo persone intelligenti non lo so però discorsi di senso invece adesso i discorsi sono sempre politici ma soprattutto ideologici che nell'ideologia è proprio quello che ti toglie la lucidità su una cosa no? siccome lì si narrava di questa società che aveva che era stata aperta per il ponte aveva preso 300 milioni ed è stata chiusa senza fare niente io ho detto questa cosa in radio e quindi arrivano i messaggi dei eh perché voi comunisti voi di sinistra sì sì e allora io sbroccoli perché dico ma qui non c'entra la politica qui c'entra che siamo tutti italiani paghiamo tutti le tasse e qua si sono presi 300 milioni ma che c'entra che non so nemmeno siano di destra o di sinistra quelli della società non mi interessa faccio un discorso di senso e siccome noi siamo un popolo di tifosi no? e siamo un popolo di tifosi anche nella politica cioè o sempre da una parte o sempre dall'altra non si riesce a fare un discorso di senso senza che uno ci metta l'ideologia o che ti debba in qualche modo posizionare perché c'è una specie di ipnosi per cui non c'è più una formulazione del pensiero originale no? tu non ascolti più quello che uno dice ascolti solo chi l'ha detto e siccome l'ha detto lui va bene tant'è che io ogni tanto dico delle frasi senza dire chi l'ha detto e la gente fa fatica a capire se è d'accordo o no perché ha bisogno di sentirsi dire l'ha detto la Schlein l'ha detto la Meloni l'ha detto la Russe allora nel dire così dico ah l'ha detto Salvini sì allora ha ragione oppure no c'è torto è una tifoseria è una tifoseria ma è per pigrizia no? per pigrizia perché uno dopo anni che invece di decidere tu scegli e dopo non sei più in grado di decidere no? sai che c'è questa grande differenza fra decidere e scegliere tu prendi delle decisioni alla vita oppure scegli tra due prodotti che sono stati messi lì da qualcuno per te però non è una scelta quella è una decisione tra bianco e nero magari a te ti piace giallo non riesci più neanche a pensare che esiste il giallo capito? sì sì chiaro è esatto questo termine per me è molto adatto io quando parlo di questo problema uso il termine tribalismo perché è diciamo l'appartenenza alla tribù come prima cosa appunto come hai detto tu chi l'ha detto se l'ha detto questo allora va bene o è assurdo questa cosa la vediamo continuamente ce l'hanno con le famiglie con le squadre di calcio con la politica con sì no e invece tu hai usato etichetta che anche rende l'idea cioè devi mettere l'etichetta prima per capire devi mettere il nome sul posto a sedere devi dire ok io per esempio se non lo so facevo le iene scrivevo per la Mondadori quindi io ero Berlusconiano per forza poi dopo sono andato a lavorare a Rai 3 per cui ero per forza comunista poi siccome dicevo che non ero nessuno di queste cose ero qualunquista e quindi io ancora adesso mi porto il nome di qualunquista che va benissimo per carità però mi piace entrare e uscire dalle cose con la mia testa con le dovute eccezioni poi perché ad esempio in Audi e Mondadori ma non è nella percezione comune in Audi e Mondadori ma è un po' più di sinistra nella Mondadori non è ad Elfi però è la stessa società è quella roba lì poi il prosciutto la mortadella il salame di sinistra cioè è una roba infernale sì sì certo no e secondo te influiscono i social network in questa dinamica cioè è peggiorata c'è sempre stata no tante cose che vediamo sui social network ci sono sempre state solo che non si potevano vedere no cioè non è che nel senso che il bullismo per esempio non è una cosa di adesso alle medie esisteva anche magari in maniera in maniera violenta si è dato un po' la voce a tutti e quindi secondo me è partito un po' questo meccanismo per cui tutti debbano dire qualcosa devono sempre dire un'opinione anche su cose che uno non conosce ma siccome fa tutto parte di questo gioco dell'esserci lì bisogna tenerli lì allora non so se tu ti accorgi ma tu tutte le mattine ti svegli apri il giro leggo un po' i giornali per sapere prima di andare in onda in radio che non sia successo qualcosa e tu ti devi schierare da una parte o dall'altra ogni giorno tu devi decidere che maglietta mettere ma che può essere da temi importanti come la guerra a Fedez e sua sorella ogni giorno tu stessi d'accordo con Morgan e tu dici ma a parte io non ho tempo per informarmi su tutte queste cose e dare un'opinione ma e poi ma perché io ogni giorno mi devo mettere una casacca e diventare soldato di guerre non mie perché quello che mi risponde in radio sul ponte tu sei comunista quello è un arruolato uno che si arruola per guerre non sue per sostenere qualcun altro che è probabilmente la differenza sostanziale fra schiavo e servo ecco lo schiavo non si può liberare da una condizione il servo è quello che serve sempre il potere ah sì assolutamente e questo secondo me diminuisce anche molto l'intelligenza collettiva che magari non era già altissima però un po' c'era e se però tutto si riduce infatti c'è quella artificiale adesso a supporto a supporto da quel punto di vista tu la usi dal punto di vista creativo all'intelligenza artificiale io arrivo sempre tardi con queste cose l'anno scorso cioè ad agosto ero a new york che stavo finendo il libro e lì ho un amico che lavora lì da tanti anni e loro in ufficio la usano un ufficio robe creative così mi dice che addirittura ormai in america almeno lì la maggior parte delle persone in cui lavoro la usano per mandarsi le mail cioè manda una mail a Daniele dicendo che mi dispiace per ieri sera in via cioè proprio trova una scusa plausibile questa è quella roba di quando sono arrivata quando è arrivata l'insalata già lavata tu cominci a usarla l'idea di comprare l'insalata vera di lavarla sfogliarla tagliarla e quindi mi ha fatto vedere io ho detto io stavo per chiudere il libro e mi mancava più un pezzinito tra l'altro verso la fine perché io poi non scrivo diciamo in sequenza come lo leggi lo scrivo ah ok e allora ho scritto stile Fabio Volo ho aggiunto e lui nel giro di credo dieci secondi mi ha scritto una pagina intera e la cosa mi ha impressionato perché non avrei usato certi vocaboli o certi aggettivi però lì dentro c'erano delle cose interessanti tant'è che diceva questa frase ma la prendo non prendo tutto ma mi prendo questa frase però è è una potenza io cioè lì davanti faccio fatica a non spaventarmi ecco però sarà anche perché sono vecchio ma non è detto ma cioè a parte che non sia così vecchio ma effettivamente è inquietante e poi finché lo fai tu stile Fabio Volo lo prendi vabbè tutto sommato non c'è nessun delitto ma se lo fa qualcun altro fa stile Fabio Volo e si fa il libro a parte quello ma poi sai finché non lo fa un capo di stato che dice una roba come il deep fake come si chiama quello deep fake sì come si chiama mi ricordo beh io non so cosa succede visto che l'hanno licenziato poi l'hanno ripreso poi l'hanno rilicenziato sì beh non è che esiste solo OpenAI cioè se non lo fanno loro lo faranno qualcun altro no vediamo vediamo non lo so però ogni generazione ha le paure per quello che arriva quindi mi sto chiedendo è una paura reale o è la solita paura di una vecchia generazione di fronte a una nuova la domanda è legittima però secondo me questa è proprio una minaccia sistemica pesante cioè dovremmo parlare quasi solo di questo e non se ne parla no più che altro sai cosa che vedo che non se ne parla mai perché noi ovviamente oltre ad avere sempre questo Guelfi e Ghibellini la destra e la sinistra tutti sempre temi che tanto il mondo va avanti i brevetti le cose noi siamo lì mettiamo la panchina in centro facciamo pedonare cioè noi ancora siamo amministrativi il mondo tanto produce fa e il problema è che nessuno ne parla ma questo mio amico che ha credo 15 persone nel suo ufficio lui dice sai io con due che usano bene dell'intelligenza artificiale gli altri 13 non mi servono e quindi è evidente che come è arrivata la sbarra del telepass e il casellante è stato a casa cioè qui adesso il mondo del lavoro si ridurrà quindi se uno non comincia che siamo già in ritardo a pensare che bisognerà pagare delle persone senza farle lavorare perché non ci sarà lavoro ma bisognerà pagare lo stesso no? perché quello lì che sta a casa non è che possono fare tutti i tassisti perché adesso stanno tutti a fare i tassisti no? perché appena sali sul taxi dicono io faccio tassisti da un anno e faccio tassisti da sei mesi perché lavoravo in un'azienda però a un certo punto siccome a San Francisco arrivano i taxi senza autista infatti il problema saranno dare i soldi perché quello deve portare a casa da mangiare per lui e la famiglia quindi dare i soldi a gente che non lavora ma soprattutto cosa fanno tutto il giorno perché nessuno parla mai del ruolo sociale che ha il lavoro nel senso proprio per otto ore non sei pericoloso tra virgolette cioè sei lì sei intrattenuto no? il gatto col gomitolo ma quando gli togli il gomitolo ma che fa il gatto per otto ore? ti svegli la mattina prendi dei soldi a fine mese e cosa fai tutto il giorno? infatti questa è la vera domanda perché diciamo la retribuzione è difficile da risolvere ma in assoluto non è irrisolvibile penso ma il vero problema è il senso cioè una volta che anche tu hai da mangiare e poi dov'è la direzione della tua vita ti arrivano un tot soldi metti che servono per vivere ok e dopo? no ma è questo di fatti perché secondo me diciamo la ridistribuzione del denaro diciamo questa sorta di socialismo che non è mai stato applicato arriverà per natura nel senso che quello a cui tu ce lo puoi fermare ancora per un po' ma quello è ovvio che prima o poi arriva cioè non esiste che uno non so che inventa Uber prende il 25% su ogni corsa nel mondo quindi billion di dollari al giorno e un povero Cristo non c'è più neanche l'acqua perché c'è il riscaldamento quindi il socialismo arriva per forza anche lo vogliamo e quello a qualcuno darà fastidio dare un po' di quello che ha però saranno persone che avranno così tanto che è solo una questione psicologica non è che tu prendi 1000 euro e devi dare 500 che ti cambia sono billionaire che dovranno dare dei million e va bene lo stesso però poi quello lì che si sveglia la mattina che prende 2000 euro al mese senza far niente si sveglia la mattina si fa il caffè ok e dopo di che bisognerà capire cosa fa anche proprio per una soddisfazione personale non solo per essere intrattenuto cioè il lavoro a volte è anche come dire indagine su di sé poi i lavori creativi ovviamente di più però attraverso il lavoro capisci anche chi sei impari degli skills e delle cose ci si imbruttisce senza lavorare infatti sono assolutamente d'accordo ma questa è anche una cosa che ti volevo chiedere perché alla fine la ricerca appunto della felicità nelle cose tue che ho visto e ho letto passa sempre invece più dall'amore dai rapporti sentimentali che sono sicuramente fondamentali però tu sei una persona con una fortissima etica del lavoro sì cioè anche questo ha contribuito alla tua felicità mi ha dato tanto sì 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 io allora il libro voleva raccontare la storia di un uomo che cerca sempre cioè in ogni cosa che in qualche modo lo attira che può essere un lavoro o una donna così c'è quella promessa di felicità che non si realizza mai perché la promessa di felicità poi dopo se dentro non hai sistemato delle cose la mandi in vacca sempre perché come dico sempre come sbagliare il primo bottone dalla camicia poi dopo se tu sbagli la relazione con te e non ti è chiara e non ti sistemi delle cose tutte le altre relazioni poi saranno degli errori ma non è che sono degli errori nel tuo modo di relazionarti è che hai sbagliato il primo quindi ti proietti su quella persona delle aspettative quella persona ti serve quella persona ti garantisce ti completa tutte queste frasi che si usano e quindi carichi una persona di responsabilità che non sono sua la felicità è ovviamente una porta che si apre da dentro quindi ti devi sistemare dentro io diciamo le mie colonne portanti cioè quelle che sono riuscite a creare una sorta di equilibrio tra virgolette sono state sicuramente il lavoro perché mio padre mi ha insegnato questo come dico nel libro se non hai un talento devi avere un metodo e io l'ho scritta per me quella frase nel senso che io non penso di avere un talento non era il CATPT se non hai un talento devi avere l'intelligenza devi essere bravo però io insomma quello che sono riuscito a fare nella mia vita che erano realizzare un po' i miei sogni non li ho fatti grazie a un talento ma li ho fatti grazie a un atteggiamento un'attitudine una disciplina un'ossessione che mi ha insegnato che mi ha insegnato mio padre quindi per me la creatività che è anche il respiro della personalità io quando scrivo quando lavoro quando creo quando immagino e faccio sto anche indagando su di me che torniamo al discorso di prima se tu togli questo a una persona chi sei tu dopo senza il tuo lavoro senza le tue cose forse magari è arrivato l'era del cinghiale bianco come diceva Fattiato siamo arrivati a quel punto in cui proprio perché non devi più andare a lavorare è il momento in cui la telecamera si gira verso l'interno l'occhio si gira verso l'interno e cominci a chiederti per esempio io non mi identifico in quello che faccio nel senso che io lo so che per le persone sono Fabio Volo quello dei libri dell'aglio però io non io non sono ciò che faccio per me è importante se no chi pensa di essere quello che fa poi li vedi hanno 90 anni sono ancora magari in televisione che si capisce cosa dicono però non mollano perché senza quel lavoro che è la loro identità ecco la mia identità fortunatamente è una cosa interna il mio lavoro è una parte importante della mia vita ma non è la mia vita ma è sempre stato così? no all'inizio era una necessità il mio lavoro perché io vengo da problemi economici familiari quindi io non avevo il piano B dovevo per forza farcela quando però mi sono anche un po' montato la testa a un certo punto che le cose cominciavano ad andare bene ho preso questo cambiamento dell'universo no perché le persone mi parlavano in un altro modo l'opposto di come mi avevano sempre parlato la mia vita era dalle porte chiuse alle porte aperte da no non c'è posto sì per te c'è posto sono delle cose che comunque tu a un certo punto non la sai neanche gestire perché non è che sono l'apo che sono un attimo una famiglia dove c'era già tutto aperto quindi dopo quello schiaffone lì mi sono seduto un attimo ho avuto questa fortuna di fermarmi un attimo e dirmi io non sono quella roba lì io faccio quella cosa lì cioè io non sono un meccanico io faccio il meccanico non sono un panettiere io faccio il panettiere è importante secondo me che la mia identità non fosse legata al mio lavoro ecco c'è questa frase che ho trovato nella tua vecchia intervista riguardo appunto i tuoi anni giovanili che hai detto che eri da solo cioè non avevi una compagna perché eri in guerra in guerra si va da solo quando da Brescia ho deciso di lasciare diciamo il lavoro di famiglia e la città sono andato a Milano in cerca di fortuna con la paligia di cartone non avevo niente in mano non avevo non parlavo le lingue non sapevo suonare lo strumento non avevo studiato cioè non avevo delle armi da potermi giocare e quindi ho smesso di seguire il calcio che ero tifoso e mi appassionavo però mi dava anche tanto turbamento emotivo e ho deciso che non mi sarei mai fidanzato finché non avessi ottenuto qualcosa di stabile nella vita perché mi avrebbe distratto la vedevo come una distrazione è una specie di malattia mentale diciamo perché le battaglie non le puoi fare con una donna a cavallo dietro che ti abbraccia cioè Penelope sta a casa e questo vale al contrario anche una donna l'uomo non si possono e come si dice il cammino si fa da solo in due è una passeggiata la stessa roba non potevo avere scombussolamenti emotivi c'è questa mi ha fatto venire in mente questo cartellone che vendono a strand alla libreria New York che c'è single accoppiato building my empire è difficile è difficile poi c'è chi ce la fa io non ce l'avrei fatta a fare tutte e due perché non avevo tanto da giocarmi ecco e invece adesso diciamo questa visione questo maggiore distacco dipende anche dalle pratiche di meditazione che fai io ho sempre avuto fin da ragazzino una sorta di richiamo per diciamo ciò che trascende l'uomo mettiamola così quindi all'inizio da bambino da ragazzino lo trovavo perché andavo ad oratorio facevo il chirichetto e c'è stato anche un momento a 11 anni che ho pensato di fare il prete perché ero proprio molto attratto da questa cosa ho smesso di fare il chirichetto a 14 anni perché il prete mi ha detto cioè ormai c'hai la barba sei più alto di me cioè o fai il seminario o scendi perché ormai ero alto come lui e mi cominciava a arrivare anche la voce da uomo e poi ho sempre fatto tutta una serie di cose pratiche meditative ho fatto il cammino di Santiago cioè comunque quella ricerca lì non l'ho mai abbandonata a volte in periodi in maniera più intensa a volte un po' meno ma scusate il cammino di Santiago io sono stato a Santiago ma ho fatto il cammino di Fiumicino che è il clare no io ho fatto dalla Francia si parte da Saint Jean Piedeport e sono arrivato lì ho fatto tutta una serie di cose e l'ho sempre tenuta ultimamente ho più tempo e ho anche probabilmente con l'età un richiamo più forte quindi dalla mattina mi sveglio anche prima di venire qua stamattina e inizio la giornata così che non è tanto la meditazione del guru con la barba è mettermi in testa ogni giorno io mi sveglio metto l'acqua io ho un altarino diciamo metto l'acqua e accendo la candela e così mi hanno insegnato ma è una pratica buddista? mi siedo e medito però io intanto colleziono per gusto mio personale che non c'entra con questa cosa le statue del sacro cuore di Gesù quelli in gesso quelle delle nonne che soprattutto ma quel tatuaggio ad esempio è legato a questa cosa? questo è un sacro cuore però con il fiore del peyote perché sono stato in Messico con gli sciamani e ho provato l'esperienza del peyote poi sono andato in Brasile a fare la ayahuasca sempre parte di queste ricerche raccontami un po' bellissime emozioni e sensazioni ed esperienze fortissime ma questa è una cosa che adesso in America New York ci sono proprio anche delle chiese va tantissimo io a New York l'ho fatto una volta ma io vado sempre solo con se ci sono gli sciamani quelli veri perché c'è anche ibiza se vuoi vai ti prendi la ayahuasca la MDMA e ti fai un viaggio io faccio proprio le cerimonie e come funziona con loro si prega si canta cioè vai nel bosco cioè vai in un posto ho fatto l'estate no due estate fa scusami sono stato a vivere con gli indigeni diciamo dell'Amazzonia non c'è niente di mostruoso di satanico tanto che io mi sono portato di bambini per dire sono anche i bambini e fai le cerimonie canti preghi ma che è poi la stessa cosa che ti stavo dicendo quando la mattina accendo la candela è proprio un inchino a parte alla sacralità della vita ma anche a una consapevolezza che esiste un qualcosa che è fuori dal mio controllo perché altrimenti ti danni tutta la vita che pensi che tutta la tua vita dipenda da te no? sai quando ti dicono se tu vuoi una cosa tu puoi farlo sei tu e in realtà non è così perché tant'è che la maggior parte della sofferenza viene perché le cose non sono come te le rimmaginate una storia d'amore un lavoro la tua vita la tua fisicità e invece lì c'è un qualcosa che è più grande di te io nel libro in questo per esempio ne parlo e dico uno sguardo benevolo io penso ed è il titolo tutto è qui per te non esiste niente contro di te nemmeno le rotture di palle nemmeno i problemi le cose più più fastidiose che ti capitano nella vita non sono lì contro di te non c'è un dio che siccome hai peccato ti punisce ma sono lì perché proprio per quelle difficoltà ti fanno crescere ti fanno conoscere te stesso ti fanno diventare più simile a te stesso e quindi io la mattina faccio questo questo inchino a un qualcosa di più grande alla sacralità delle cose e quindi riesco a distinguere per esempio i problemi dalle seccature per me andare in posta che è una delle cose che odio di più al mondo non è un problema la macchina che non va non è un problema quelle sono le seccature della vita quotidiana per uno che vive in città perché basterebbe andare via da un'altra parte e avresti altri problemi e invece prima ne soffrivi di più e invece per me era tutto un problema prima perché se io mi ero prefissato di arrivare alle 10 là dovevo fare quella roba però no buco la macchina mi dicevo che è una giornata di merda e invece no non succede niente e come ti sei avvicinato il primo rito sciamanico che hai fatto dunque ci sono avvicinato lentamente avevo già fatto altre pratiche poi la madre dei miei figli era più advance su questo tema e lo è ancora e quindi grazie a lei abbiamo conosciuto questo gruppo di ragazzi che si occupava proprio di mantenere vive le culture delle come dire delle etnie più piccole e quindi fanno una volta l'anno dove questo? in Amazzonia? il primo anno era a Ibiza il secondo anno l'hanno fatto mi sembra il secondo anno dove sono nato io era nel nord di New York e poi l'hanno fatto in California lo fanno un po' in giro per il mondo e tu per tre giorni è un gathering che per tre giorni hai tutti il curandero e il capo tribù dall'Australia al Guatemala e loro raccontano in cosa credono quali sono le loro difficoltà come fanno uscire dai loro problemi cioè è una cosa come ti dicevo prima mi piace conoscere anche culture diverse persone diverse e quanto dura più o meno dura tre o quattro giorni dormili con loro mangili con loro e la sera c'è il fuoco e mi ricordo per esempio non so una sera tutto stellato vicino a questi pini questi abeti meravigliosi così il fuoco e poi c'erano i nativi d'America che fanno i loro canti poi c'erano quelli del Guatemala che hanno tutte le cerimonie del cacao e così poi c'erano quelli della Colombia che hanno le foglie di cocaina e una cosa una roba che usano loro per leggere un po' il futuro e tutti hanno le loro culture le loro usanze e ti arricchisci per esempio i miei figli che sono molto piccoli quando siamo andati la prima volta uno ne aveva sei uno ne aveva otto sono molto affascinati da questo mondo e non hanno una cultura come si dice primaria e tutte le altre sono delle sottoculture ma sono aperti al fatto che ci sono tante cose diverse diciamo questa cosa i riti con allucinogeni diciamo così come macro classe passano un po' tutti dal discorso di soluzione dell'ego si come la meditazione e questo secondo te per questo è anche attrattivo per gli occidentali diciamo perché forse no guarda è tutto anche la meditazione in sé è sempre quello è l'ego contro l'uno diciamo tu ti metti lì perché tu è proprio il contrario di penso penso dunque sono su cui noi siamo basati in sostanza quindi dai greci penso dunque sono ecco lì è penso dunque non sono è proprio l'opposto perché tu tu pensi e vedi la realtà in base a quello che tu pensi quello che tu pensi intanto come dire è condizionato da quello che tu sai dalle parole dalla quantità di parole che hai come dice sempre Galimberdi meno parole hai meno pensi tu per dirti no non è mai quello che senti è sempre quello che pensi ma quello che pensi è basato sul tuo carattere la tua esperienza cosa ti è successo la mattina invece lì è proprio il contrario c'è l'ego non è che va distrutto perché non è una guerra va ridotto e soprattutto va gestito quando tu vedi tu hai delle come dire delle pulsioni degli istinti delle debolezze può essere non so sei seduto dall'energia sessuale sei seduto dall'energia del potere sei seduto le tre fiere di Dante per arrivare a Dio per arrivare a te stesso che poi Dio Dante alla fine quando vede Dio alla fine dice che là dentro legato con amore non volume ciò che per l'universo si squaderna ma lui là dentro vede il suo volto perché alla fine Dio sei tu questa è la cosa però per vedere tu non lo puoi vedere se hai queste tre fiere per esempio lì ne ha usate tre il potere il denaro la sessualità ed è tutto collegato perché se tu per esempio studi la divinità non so per esempio Shiva in India che quindi è completamente diverso dice la stessa identica cosa lui si fa sempre riprendere nei disegni nei dipinti c'è sempre o una tigra al guinzaglio o è seduto su un tappeto di tigre e la tigra è la tua personalità il tuo ego i tuoi istinti le tue paure le tue passioni che non devi ucciderle però devono essere al tuo servizio non tu al servizio delle tue cose altrimenti va in giro così e quello che dice Dante quello che dice Gesù quello che dice le culture orientali il buddismo così alla fine è sempre quello cioè tu non sei io non sono Fabio capito io sono qua dentro e adesso sono Fabio per un po' ma non è non è è come se tu è come se tu guidassi una BMW no per dire e tu ovviamente pensi di essere la BMW in realtà tu sei quello dentro che la guida no e quindi la meditazione tutte queste pratiche sono per farti capire che la BMW è una navicella tu sei quello dentro la tua essenza è un'altra e quando arrivi lì che arrivi a Dio ovviamente non è che ci si arriva in una vita di meditazione non credo poi ti accorgi che quella roba lì è quella roba lì è tutti ecco ma questo Dio diciamo che vedi sei sempre te o è il mondo esterno o la comunione fra te e il mondo no tu sei tu sei Dio nel senso che tu sei Dio secondo queste culture tu sei Dio dentro questa questa fisicità dentro questo corpo e poi quando morirai Fabio non ci sarà più e tornerai a essere quello che sei però sono tutte delle esperienze è come se fosse un sogno ecco tu sei domani sogni di non so di fare una cosa però poi ti risvegli magari nel sogno avevi paura però poi ti svegli e dici vabbè perché pensavo fosse vero invece non è vero alla fine il velo di maia è questo teoricamente hai ridotto la tua paura se ne avevi di morire ma io non ho mai avuto tanto paura di morire io ho sempre avuto ne ho ancora paura di soffrire questa mia sempre cioè l'idea di stare male fisicamente di provare il dolore fisico poi diventi genitore quella paura lì la porti più su di loro quando io avevo i bambini piccoli non ho mai avuto paura a volare per esempio ogni tanto mi veniva quella roba di dire oddio se cade l'aereo poverini cioè questo legame con i figli ti fa nascere o almeno a me mi aveva fatto nascere una paura di morire ma non tanto perché fosse finita la mia vita ma perché dovevo essere lì per loro ecco e come ti ha cambiato la vita la paternità a parte questo beh la paternità arriva con quella cosa lì che tu ami un essere che ogni tanto io li guardo e dico ma chi sono sono i miei figli io sono papà però ogni tanto c'è un momento in cui dici ma chi sono questi due qua hai come un distacco però li ami più di te stesso è una roba affascinante è un computer che adora l'hard disk non so com'è capito è una cosa strana poi per esempio io ho due figli maschi quando sono lì con loro capisco delle cose di mio padre ed è molto affascinante perché mio padre non c'è più e non so tu muore una persona e dici è finita questo rapporto è andato quello che era invece è vivo costantemente nel mio rapporto con i figli più i miei figli mi insegnano delle cose mi si allarga come dire la capacità di capire e quindi mi si allarga la comprensione verso mio padre perché quello che abbiamo detto prima tu pensi quindi non sei io posso dirti chi era mio padre ad esempio e adesso ti racconto che è mio padre e tu dici ok papà di Fabio era così ma in realtà è come io ho visto mio padre mio padre era tutt'altro probabilmente è proprio una specie di imbuto mio padre era così io l'ho visto così poi l'ho visto da adolescente cosa posso aver capito di mio padre a 15 anni di un uomo di 40 con i suoi problemi le sue cose con un matrimonio a me sembravano non litigavano mai i miei ma era veramente felice mio padre magari non litigava perché non c'era voglia di litigare non lo so io non posso sapere chi era mio padre e ti fa paura questa cosa rispetto ai tuoi figli? io cerco di io ovviamente a differenza di mio padre sono mio padre era un monolite lavoratore che per dirti ti voglio bene veniva qui e ti montava delle mensole con un trapano mi diceva ti ho lavato la macchina ti ho fatto il pieno se vuoi ti monto le mensole se vuoi ti metto il fisher quello era per dirti ti voglio bene io invece con i miei figli proprio ti voglio bene gli dico capito sono più aperto parliamo mi faccio raccontare un po' tutto chiedo sono di un'altra generazione non sono meglio come padre però sono diverso sono della mia generazione quindi pensi che lo spaisamento fra rappresentazione che hanno loro e quello che sei tu sarà meno ampio sì ci sarà sempre la loro visione di me però sicuramente ci sono meno silenzi e sai il silenzio anche in una relazione dà spazio all'interpretazione e quindi l'interpretazione di nuovo sei di nuovo tu che ti immagini delle cose e non è irreale io lascio poco spazio invece dovrei anche lasciarne un po' di più capito mi sveglio la mattina noi abbiamo la finestra proprio sull'alba e gli dico guarda che sta salendo il sole guarda che bello e lui tutte le mattine il sole la vita sono anche un po' troppi i coglioni e li hai messi cioè hai elaborato sia loro come sono sia il tuo rapporto anche in arte fino adesso o lo farai in futuro cioè l'hai messo in qualche libro ci stai pensando come sono io con loro sì e anche loro come sono diciamo ah no non ho mai raccontato i miei figli nei libri e ovviamente in quella relazione io cambio e quindi cambio il mio lavoro quindi ci sono nel senso che se non avessi avuto due figli il libro sarebbe diverso però non è che sono citati loro sono ovviamente come dire sono dentro la mia vita totalmente no non li ho ancora raccontati non so neanche se li racconterò non lo so come sapete l'apparizione randomica di un gatto all'interno di un podcast segnala il momento dello sponsor questo episodio è offerto da NordVPN NordVPN è un'app che fa un migliaio di cose vi dico solo le principali vi permette di connettervi da qualsiasi luogo nel mondo ed avere accesso a internet anche se ad esempio siete uno di quei paesi dove la rete è censurata in tutto o in parte questo da un lato è un vantaggio per il cazzeggio perché vi permette di continuare a guardare le puntate di PDR o i video dei gatti e dall'altro può essere anche un vantaggio importante dal punto di vista della sicurezza venendo a temi un po' più leggeri connettervi attraverso NordVPN nasconde la vostra geolocalizzazione e quindi adesso che è Natale vi permette ad esempio di comprare degli oggetti con delle offerte dei regali con delle offerte che non sono disponibili dall'Italia ad esempio oppure se dovete prenotare le vostre vacanze a settimana bianca il vostro viaggio dalle principali piattaforme di booking passando attraverso NordVPN potete ottenere delle offerte migliori NordVPN offre anche integra anche dei tool contro i malware vi protegge delle connessioni ad esempio negli aeroporti nelle stazioni sui treni negli aerei che sono reti pubbliche o nei ristoranti nei bar reti pubbliche dove potrebbero esserci dei tool che vi rubano i dati personali passando attraverso NordVPN che è criptografato ed è privato tutto questo non esiste non è un rischio quindi siete protetti ha anche un tool molto interessante che vi permette di scoprire se la vostra la password della vostra mail è stata rubata ed è presente sul dark web tutto questo ha un costo molto contenuto e soprattutto con l'offerta legata a questo podcast che trovate su www.nordvpn.com slash pdr che trovate anche in descrizione questo link attivo potete cliccarci sopra sia audio sia video trovate delle offerte ad esempio in questo momento 4 mesi gratis sull'abbonamento passate da lì perché uno dei feature più interessanti di una vpn che pure ne ha così tanti di belli e interessanti è che sostiene pdr podcast quindi anche un modo diciamo di sostenere questo progetto la cosa buona è che potete provarlo per 30 giorni vedere se vi piace vedere se le sue tante capacità le sue tante funzioni vi interessano sono utili secondo me sì ma provate voi stessi e se vi interessa ve lo tenete se no lo potete cancellare chiedere rimborso entro 30 giorni ve lo ridanno quindi a rischio zero mi raccomando www.nordwpn.com slash pdr e ora torniamo alla puntata senti ma un'altra cosa che mi ha sempre colpito del tuo lavoro è la tu sei sempre stato molto attento a quello che succede in America nel mondo glossassone tra l'altro a un certo punto abbandoni per un periodo la tua carriera all'inizio per andare proprio a studiare inglese facendo il lavapiati a Londra sì perché era così importante per te l'inglese perché ho pensato che a un certo punto bisognava sapere l'inglese era importante sapere l'inglese e ho avuto questa fortuna perché poi ho iniziato ho fatto il lavapiatti lì a Liverpool Station e quando io ho iniziato a parlare un po' inglese poi dopo sono arrivati anche i dvd in lingua originale cioè io ho beccato un'onda botta di culo perché poi dopo cosa facevo cominciavo a guardarmi i film in lingua originale con i sottotitoli sempre per tenermi allenato mi compravo lo so i cofanetti di una serie tv e me li guardavo tutti in inglese con i sottotitoli prima in italiano e poi i sottotitoli in inglese uscito dall'orrido mondo dei doppiatori esatto che sono bravissimi però sono più bravi gli attori originali in realtà non tanto sì quando ti guardi per la prima volta il padrino originale e senti al pacino che parla calabrese siciliano capito quel picciotto comunque al di là di quello che poi dopo ho fatto anche l'attore quindi mi piaceva vedere anche come usavano la voce gli attori ovviamente ma soprattutto la grande ricchezza non era tanto questo ma il fatto che potevo entrare in un bacino di libri film che non erano tradotti in italiano quindi a me l'inglese mi ha dato la possibilità di andare al cinema in America a vedere film che poi in Italia non uscivano leggere dei libri che poi in Italia non sarebbero stati tradotti vedere cose cioè ti allarga tant'è che a un certo punto ho detto adesso studio il francese chi sia poi l'intelligenza era francese non ce l'ho fatta sono stato in grado mi spiace da morire io l'ho preso anche un appartamento in affitto perché così sono obbligato a venirci ho fatto anche una scuola per tipo due mesi dove ti facevano sentire con la cuffia tutto uno che parlava in francese che era un metodo ma niente non ce l'ho fatta più legato alla letteratura forse al francese sì 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 infatti ho imparato un po' lo spagnolo però vabbè non fa niente però va bene quando andavo a Ibiza andava bene per le feste esatto senti perché ad esempio è una cosa che tu hai pensato anche questa serie su di te che poi hai fatto che ti ha attirato molte critiche l'hai chiamato il tuo Galileo Galileo Moment come sofferto ancora adesso soffro è una cosa che mi sono messo via ma è sempre un po' una specie di taglio sotto il piede che ogni tanto quando cammini si riapre perché negli anni 90 mi sembra 90-2000 così io mi sono innamorato di questa serie tv che davano in televisione a New York e non c'erano ancora i cofanetti così che si chiama Seinfeld scritta da Larry David interpretata da Seinfeld con Larry David sei stato nel diner sono stato nel diner da Harlem e io vedo a proposito grazie all'inglese perché poi l'ho vista anche in italiano non fa ridere ma non perché non fa ridere perché non sono bravi doppi attori perché quella è una comicità ebreo new yorkese che devi avere in qualche modo assimilato come i film di Woody Allen che quelli vabbè fanno ridere anche tradotti però so e mi guardo Seinfeld e mi innamoro dopodiché Larry David che è un po' il mio punto di riferimento fa questo Carb Your Enthusiasm che è una serie dove lui interpreta se stesso dopodiché ne abbiamo anche c'è Mac Maron sono tutta una serie di comici americani dove lui si che iniziano a fare le serie dove interpretano se stessi in Italia ce l'avevamo già che era a casa Vianello ci tengo a precisare perché Raimondo Vianello facevano se stessi in casa Vianello quindi io mi carico perché capisco che è proprio la comicità che piace a me che mi sento anche portato nella scrittura tant'è che me la sono scritta praticamente da solo ho fatto due stagioni senza un team di autori me ne sono scritta da solo e secondo me faceva molto ridere la propongo un po' come lui anche come lui esatto io la propongo e mi dicono tutti ma perché è una serie dove tu fai te stesso è un documentario sulla tua vita e dico no non è un documentario cerco di spiegare questa ondata ma siccome non c'era in Italia io facevo l'esempio di casa Vianello ma non funzionava niente esce questa serie si chiama Un traditional tra l'altro senza soldi perché nessuno credeva in questo presento quindi le ho fatto grazie agli amici cioè io ho avuto ospite Vasco Rossi Radefilippi Boldi Luca e Paolo tutti gratis le location erano case dei miei amici insomma riesco a farla il Corriere della Sera il critico televisivo del Corriere della Sera che è considerato il più importante scrive un egocentrico narcisista vanitoso di provincia una roba del genere io dico niente è andata così dopodiché la fa Bisio e il critico del Corriere della Sera che è considerato scrive la serie non è bella ma ci vuole tanto coraggio a interpretare se stessi per cui complimenti a Bisio per cui capisco che anche lì è sempre tifoserie se hai fatto il teatro di Milano se hai fatto cioè esistono delle persone che appartengono a dei circolini che non è una critica a Bisio ma parlo del critico dopodiché la fa mi sembra la fa Verdone e tutti a vita da Carlo un'idea fantastica e io sono lì che dico cazzo ho preso gli schiaffoni almeno uno che dicesse comunque ho una sofferenza però insomma me la devo mettere via sono stato fortunato in tante altre cose ma c'è un po' di chiusura diciamo in Italia la percepisci su questo genere di idee o è stato un caso o è una cosa che ogni tanto ritrovi c'è un po' di miopia guarda ti dico no ti dico intanto è come è sempre come viene percepito perché se Verdone l'avesse fatta come primo al posto mio non l'avrebbero sarebbe andata bene subito quindi è il percepito io siccome non ho casacche di nessun tipo non sono di destra non sono di sinistra non ero non ero della scuola di Costanza cioè io sono un battitore libero io faccio quello che mi piace io credo che dopo 30 anni di carriera sia uscito questo messaggio da me che io faccio quello che mi sento faccio la radio perché mi piace non mi interessa non ho piccoli acquari dove voglio essere più grosso di un altro non scrivo i libri pensando di essere il più grande scrittore io scrivo storie che mi piacciono e piacciono le mie storie fine non è ma penso che sia anche uno dei motivi per cui piacciono le persone io non voglio fare la gara di chi ce l'ha più grosso non mi interessa a me proprio mi piace il mio lavoro e mi piace fare queste cose se l'avesse fatto Verdone subito glielo avrebbero glielo avrebbero concesso subito però quando io ho presentato questa Untraditional in un programma su Rai3 TV Talk che è critico televisivo il critico televisivo nei corridoi mi disse che operazione oh ma che operazione egocentrica che hai fatto e io gli ho detto guarda è un genere è un genere come esiste il comico è un genere comico esiste il film dell'orrore è un genere io ho detto tu che sei un critico televisivo non la dire in onda questa cosa che ho fatto perché anche se tu critichi la tv italiana dovresti sapere come il tuo lavoro cosa avviene nel mondo no? cioè io del critico del corriere mi aspetto che lui possa criticare il mio prodotto ma deve avere un'idea di che cos'è il suo mondo perché io non è che leggo solo libri italiani e non so che esiste Frenze hai capito cosa voglio dire niente lui la prende come io che mi vergogno per cui andiamo in onda e dice io glielo ho detto che è un po' e lui mi ha detto di non dirlo perché e invece non avevo ragione io cioè nel sesso nel sesso che non è che siccome tu parli male della D'Urso hai capito hai capito cos'è la televisione io non riesco a capire come mai in questo paese non si riesce ad andare oltre confine con una vera cosa avviene nel mondo cosa avviene nel mondo perché non siamo interessati a capire cosa avviene nel mondo e questo avviene per esempio tornando sempre sui libri per il fatto che nessuno in America si sognerebbe di dire che i miei libri soprattutto quelli all'inizio che erano criticati non erano libri nessuno si permetterebbe perché perché non c'è questo totem di un gruppetto che deve garantire una cosa ma il libro può essere anche intrattenimento nessuno va da uno che legge Harry Potter e gli dice non stai leggendo un libro non esiste questo concetto è proprio una cosa italiana che siccome l'acqua è poca appena arriva un altro animale a bere bisogna subito è una cosa proprio animale non è una cosa intellettuale cioè quello che io ho subito non era un attacco intellettuale ma è arrivato uno che ci sta bevendo l'acqua capito? sì sì sono d'accordo è tutto qua sì poi diciamo questo genere di odio dice più su chi lo prova che non sulla persona odiata in realtà secondo me infatti io non l'ho neanche troiettato ma secondo te veniva appunto da questo dal fatto che lo stagno è piccolo e quindi ma tu tra l'altro oggi sei lo scrittore italiano vivente più venduto credo? sì sì sono ancora vivente tra l'altro non so quando andrai non dal podcast però sì in questo momento sì questi ultimi vent'anni diciamo per essere precisi sì lo dico un po' e quindi qualcosa l'avrei capita voglio dire cioè no per arrivare a così tante persone tu ti sei fatto un'idea su che cosa c'è poi dopo ovviamente bisogna saper raccontare cioè non è solo quello però l'idea di fondo l'aspetto secondo te che arriva di più alle persone intanto io cerco di togliermi il più possibile dalle storie che scrivo cioè io porto avanti la storia non porto avanti io che racconto una storia quindi intanto non sono un intellettuale che diciamo da un gradino più alto illumina e indica la strada io non mi vivo così non sono così io scrivo però ci sono tante riflessioni su quale senso della vita come trovare la ricerca una condivisione un mio punto di vista su delle cose ma non è detta da un professore capito è detta dal tuo compagno di stanza mettiamola così lascio tanto spazio descrivo pochi personaggi lascio tanto spazio perché vorrei io desidero che il lettore ci veda lì dentro il suo amico ci veda lì dentro se stesso ci veda il marito la moglie cioè io faccio una storia e lascio tanto spazio per il lettore sai che c'era quella famosa frase Nanni Moretti levati diceva Moricelli o Di Norris se non mi ricordo uguale cioè io tu guardi un film di Vittorio De Sica sembra un documentario non vedi la macchina non senti la macchina da presa i movimenti cioè lui non c'è non c'è in quel film invece altri registi ci sono in ogni inquadratura e a volte in alcuni libri che io leggo di persone molto più brave di me cioè io sento proprio che quella parola lì che ho letto lui si è fermato a scrivere e ci ha pensato e quella roba lì è un po' come se tu quando fai l'amore quando fai l'amore che passa l'ambulanza come nel film di Woody Allen che lui gli passa l'erezione e lei gli dice ma non ce la fai più fa l'amore non è passata l'ambulanza ce la stavo facendo cioè che è come se quella ricerca di quella parola come dire è un po' come quando guardi gli attori che si baciano sotto il naso e non sulla bocca che tu li vedi si baciano lì e tu in quel momento esci dalla storia e dici ah è un film e quelli sono attori ecco io cerco di far entrare uno nella mia storia e di non farlo più uscire non gli metto so che si dice pomello e non si dice maniglia non so hai capito la bianca risicata maglietta io non parlo così la bianca risicata maglietta e nemmeno chi mi legge sono esercizi di stile molto belli probabilmente alla gente che legge i miei libri non interessa quel piacere che è un piacere perché anche a me piace lo so io leggo la divina commedia e dico cioè sono affascinato che in una terzina riesca a mettere tutta una roba così però è un'altra cosa ecco non sono dentro la storia no sono dentro come dire come vedere una punizione tirata da Maradona sono dentro non è il calcio è come gli Harlem Globetrotters capito non è la partita di base cioè quando vedi quella pennellata quella cosa di un grande talento l'arte deve nascondere la fatica che c'è dietro possibilmente sì cioè io se vedessi quando vedo una ballerina in punta di piede se gli vedessi i piedi sotto le scarbe che sono tutti distrutti che lei è devastata che fa una fatica incredibile anche se sorride mi toglie quella poesia quindi io non so se c'è un segreto al successo dei miei libri io dico che facendo così mi è andata bene ecco e la cosa che ti ha stupito più dei tuoi lettori cioè avendoli fai le presentazioni ne conosci c'è mai qualcosa che ti ha colpito che non ti ha aspettato mi colpisce che sono un po' sempre quelli che mi seguono e quindi me li sono presi alla mia età e hanno la mia età anche adesso vengono coi figli una specie di io lo chiamo effetto Vasco Rossi che è il papà che fa sentire i dischi al figlio e il figlio diventa fan di Vasco Rossi vengono lettori di seconda generazione perché i padri o le madri hanno introdotto i figli ai miei libri quindi mi affascina questo che è proprio una vita insieme ecco e all'estero come va perché tu a un certo punto hai fatto un album tanti anni fa che diventa famoso in Grecia no? giusto? ah sì 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 e invece qui allora i libri ho avuto un periodo in cui la Dioghene che è una casa editrice tedesca che è il punto di riferimento delle altre case editrici europee ha preso i miei libri e quindi di conseguenza le altre hanno fatto un po' hanno seguito questa cosa e quindi per credo per 4-5 romanzi ero tradotto tipo in 20 paesi nel mondo capito? e poi dopo basta poi la cosa si è ridotta si è ridimensionata ecco e ho capito e lì hai fatto My Tour sei mai stato sono stato in Germania sono stato in Spagna diciamo i paesi dopo l'Italia dove vendevo di più era la Germania poi ho fatto la Spagna il Portogallo però io ho dei libri a casa e non so nemmeno che lingue sono che si inizia dal fondo sai tipo coreano uno mi sembra tailandese cinese russo no mi sarebbe piaciuto infatti mi sarebbe piaciuto sì una volta c'era una mia foto nella metropolitana russa mi sarebbe piaciuto andare a vedermi sì sì per soddisfazione senti hai passato stai passando le famose fasi della notorietà in Italia secondo Flaiano cioè grande promessa grande promessa solito stronzo venerato maestro cioè sei pronta per diventare venerato maestro adesso no non credo non sarò mai venerato maestro credo che rimango così abbiato stronzo era un'ora è il solito stronzo solito stronzo sono rimasto lì il solito stronzo sì sì no per adesso mi sembra che è più o meno siamo ancora lì siamo abbastanza stabili come mi disse una volta un giornalista sai fai un libro sei primo in classifica non è una notizia noi la notizia sarà quando non sarai più primo in classifica quindi stiamo stiamo aspettando quel momento ecco vediamo quando arriverà arriverà ma tu hai sempre la sensazione di dover provare qualcosa no non ce l'hai più per fortuna ma adesso io sono in una fase bellissima della vita dove quando guardo le cose che mi sono successe che mi hanno fatto un po' soffrire no le situazioni economiche familiari il rapporto con mio padre anche questi attacchi che ho avuto che abbiamo citato adesso che comunque ci rimanevo male perché io non ero entrato in guerra nel senso io ero lì raccontavo una storia poi è andata bene pazienza quando dicono che non riusciamo a capire come mai vendi così tanti libri ma non l'ho mai capito la persona più stupita in questa cosa sono sempre stato io ancora adesso che io vado tipo ieri sera arrivano persone a teatro io sono stupito che siano ancora lì che siano così tante perché alla fine non è che faccio uno show io sono lì a presentare un libro quindi rimane quello stupore però adesso sono in questa fase bellissima dove vedo che tutte quelle cose lì che è appunto come dicevo prima il senso del titolo di questo libro io le benedico tutte veramente sono state proprio delle benedizioni questi attacchi che ho subito è una benedizione perché io sono una persona più forte migliore cresciuta e mi conosco meglio grazie a quegli attacchi benedico le difficoltà economiche che ho avuto da bambino benedico le assenze di mio padre proprio le benedico nel vero senso della parola perché io sono soprattutto queste cose non sono i miei successi io sono soprattutto le parole che mio padre non mi ha detto e delle ingiustizie che secondo me io ho subito e che mi sono dovuto come dire riorganizzare le benedico e poi che non tendo mai a farmi complimenti su questo invece proprio per rispetto alla mia persona mi faccio anche il complimento cioè io non ho mai reagito con odio con fastidio non sono mai quella guerra che io non ho dichiarato io non sono mai sceso in quella guerra ma ho sempre tenuto la barra dritta facendo le cose che sentivo perché a un certo punto il terzo quarto libro la tentazione di seguire le cose per cui ero criticato cioè mettere Pomello invece di Maniglia mi è venuta ah sì non vi piaccio ma vi faccio vedere che me la trovo anch'io la parolina o che la struttura la posso cambiare lo faccio così e invece ho detto sai che c'è io a queste sirene non mi faccio sedure e come Ulisse ho continuato la mia battaglia e alla fine sono uscito da quel fiume perché io per quello ti dico che è un bel momento della mia vita perché io ormai sono sull'altra sponda del fiume non mi riguardano più queste cose cioè mentre prima magari una critica dicevo ma come mai non mi riguarda del più perché io le benedico veramente le lascio andare sì ma poi penso siano anche cose che vengono cioè magari le persone o non pensano che tu sei una persona reale semplicemente come dicevi prima uno stagno piccolo in questo paese dove pochissimi leggono ma tantissimi scrivono la stragrande maggioranza dei libri non vende una coppia qualcuno vendono qualcosa e pochissimi vendono tanto quindi diciamo non era neanche probabilmente non era neanche personale esatto era più una questione di frustrazione è di fatto ma te lo dico anche io quando ero un giovane autore il primo libro che facevo magari pensavo guarda questi vendono tanto ma non sono bravi ma è una roba normale perché tu in realtà non hai dimostrato ancora niente e quindi con chi te la prendi invece che te la prendi te la prendi con gli altri giusto però non penso che fosse per qualcuno e poi penso anche che a un certo punto un po' dopo ti rispettano per l'età un po' che ti hanno sparato addosso per vent'anni sei ancora in piedi a un certo punto ti diceva vabbè dai basta è andata è andata è vero che fomentavi un po' questa cosa sui forum è vero sì perché io non avrei mai avuto così tanto successo senza questo odio tra virgolette cioè se tu riesci a prendere solo il bacino di chi ti segue è un bacino ridotto ma se tu riesci ad aprire una discussione e avere l'attenzione di chi ti odia hai fatto bingo perché io se non avesse avuto questa attenzione probabilmente avrei scritto dei libri avrei venduto molto meno e sarei andato avanti così invece proprio sono diventato il posto come dicevamo prima il nome sulla scatola quindi funziona per le battute per le prese per il culo funziona perché sono proprio un nome che è il posto a sedere e quindi mi ha portato molto bene non sarei mai diventato così popolare senza quell'odio quindi alla fine ha fatto il tuo interesse paradossalmente ti ha rotto le palle come dico io per dare ancora più fastidio lo dico ai miei amici ho messo in fattura ho preso quell'ordine l'ho messo in fattura e mi sono comprato una casa il fastidio totale anche più di una sì appartamento un appartamento senti ho una curiosità un po' strana ma la madre dei tuoi figli è islandese quindi i tuoi figli sono metà islandesi in Islanda c'è il patronimico non hanno i cognomi ma è il patronimico da generazioni però tranne per i stranieri noi potevamo scegliere di chiamarli credo almeno perché almeno mi aveva detto così magari non è vero hai ragione tu non lo so però i miei figli si sarebbero chiamati Fabio Son maschi e Fabio Dottir Dottir se fosse femmina di fatti Johanna si chiama Hux Dottir che il suo papà si chiama Höker e il fratello si chiama Hux Son quindi fratelli con cognomi diversi c'è un'app in Islanda per sapere se quello con cui ti stai baciando il sabato sera da ubriaco è tuo cugino no capito prima di creare generazioni di parenti quindi c'è un'app che se non riesci a capirlo parlando c'è l'app metti il nome il cognome di tuo papà e ti dicono sei nell'albero ma quanti sono tutti 300 mila 300 sì 320 mi sembra e appunto sono tutti nome e figlio di e figlia di non è semplicissimo da gestire però i miei figli parlano italiano parlano islandese che è una lingua difficilissima al di là della fonetica che è difficile per noi ma dal punto di vista della grammatica è difficilissima quindi loro anche se non servirà molto perché sono 300 mila e poi in Islanda proprio perché sono pochi parlano tutti inglese perché se no non comunicavano con nessuno quindi i miei figli parlano inglese islandese e italiani quindi sono già sono già messi meglio di me di quando sono andato a Milano deve essere molto bella però l'Islanda io non sono mai stato è molto bella sì ti dico quando io vado d'inverno adesso ci vado facciamo il Natale insieme anche se sono separato facciamo sempre il Natale insieme in Islanda io faccio bello caldo faccio delle gran dormite perché c'è buio fino alle 11 del mattino quindi la gente va in ufficio col buio e va via verso le 3 le 4 del pomeriggio quindi c'è buio con la neve quindi silenzio sono a tutti io faccio delle dormite da 12 ore non mi sembra vero e andiamo in piscina all'aperto lì perché lì sono le piscine di acqua calda quindi tu stai ti bagni la testa stai nell'acqua calda però dopo un po' sulle sopracciglia si ghiaccia l'acqua quindi ti devi dare delle sciacquate per andare sott'acqua un attimo è un posto bellissimo d'inverno è tutto così noi stiamo in centro quindi le casettine di legno colorate con le lucine sembra di stare nel villaggio di Babbo Natale e invece poi d'estate è proprio natura appena esci da Reykjavik hai cascate animali liberi loro anche l'agnello che è uno dei cibi più famosi diciamo sono liberi poi li vanno a prendere fanno il raccolto a settembre quindi vai in posti dove c'è un punto tu vai fai conto che il Gordon Circle che è questa strada che gira intorno all'Islanda è a due corsie cioè da una parte all'altra e a un certo punto non ci sono più case tu vai magari per chilometri ci sono solo animali o cascate e cose poi lì è l'incontro tra il fuoco e il ghiaccio perché è vulcanica però c'è il ghiaccio meraviglioso è veramente un bel paese sì perché è una cosa che poi noi non siamo abituati a fare l'Italia è un paese densissimo ovunque vai ci sono persone esatto esatto no lì credo sia grande più o meno come la Germania e ci sono gli abitanti di Brescia ti aspettavi che saresti finito no 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 io poi l'ho conoscita a New York poi l'hai venuta in Italia poi poi mi hanno fatto dei figli poi è un caso che la donna che è riuscita a incastrarti non era italiana non lo so mi è piaciuta subito prima ancora di conoscere mi è piaciuta in una foto per dirti l'ho vista in una foto a casa di amici ho anche chiesto se me la potevano presentare poi me l'hanno presentata e mi era piaciuta anche come nella foto poi più la conoscevo più mi piaceva e io che non avevo mai convissuto le ho chiesto praticamente dopo un mese se voleva venire a vivere con me e siamo andati avanti poi abbiamo fatto due figli e ci siamo separati però io l'ho sentita anche stamattina siamo diciamo abbastanza in buoni rapporti nel senso sempre se un uomo e una donna possono stare in buoni rapporti però l'ambiente è ancora amorevole che è la cosa che mi interessa di più soprattutto per i miei figli e poi abbiamo finito qual è la cosa che ti piace di più di questo libro? mi piace il senso del titolo appunto che tutto è qui per te sia per il bene che per il male e mi piace perché è una storia di liberazione che lo è stata per me io è liberazione da una serie di come dire di dinamiche mentali che costringono il personaggio a pensare che la felicità sia sempre una cosa che riguarda l'incontro con qualcosa o con qualcuno o con un lavoro o con una persona mentre invece è una è una cosa più meditativa che è una cosa più di partenza in modo che gli altri siano una condivisione di una bella cosa e non la speranza che siano portatori di una bella cosa quindi i rapporti sono più sani ecco tutto ciò che crea dipendenza è tossico per me anche l'amore ecco tutto qui per te lo trovate in descrizione sotto sul canale youtube e anche audio l'ultimissima domanda è rubi ancora nell'autogrill no non l'ho più fatto non l'ho più fatto non l'ho più fatto però stupendo ti posso dire un aneddoto di questa cosa sì certo come no che secondo me poi non so se lo metti ma però no no lo metto so già che lo metto guarda racconto mi sembra pif nel programma racconto che io rubavo gli autogrill perché consideravo una dittatura il fatto che non si potesse scegliere altro quindi io entravo nell'autogrill prendevo una bibita me la bevevo la buttavo la bottiglietta e uscivo senza pagare non è che lo facevo sempre io lo dichiaro un po' anche per ridere non è che lo facessi veramente l'ho fatto forse una volta o due ovviamente questo va in onda e quelli dell'autogrill si infastiscono tra l'altro in quegli anni l'autogrill vendevano un sacco di libri quindi mi ha detto no qua qua non mettiamo più i tuoi libri quindi subentrano i poteri forti la Mondadori allora dicono ok ci possiamo mettere d'accordo se chiedi scusa insomma in sostanza chiedo scusa in radio ovviamente chiedo scusa ma veramente vogliono toglierti i libri no togliermi i libri però insomma dico abbiamo un rapporto di lavoro ci mettevano sempre a quelli di Vespa esatto a dire che i rubi avevano ragione io l'avevo fatta un po' sempre così un po' da spavaldo allora la cosa fa ridere perché mi chiedono dai allora facciamo un tour prima ancora che io facessi un tour negli autogrill che poi la vado viene a firmare delle copie negli autogrill così e loro mi mettono in una specie di in un autogrill a Fiumicino in aeroporto mi mettono un banchetto proprio davanti con la gente che va e viene con i trolli di fretta io lì col banchetto proprio un po' non l'hanno fatto apposta però era un po' umiliazione del personaggio te lo dico solo perché mentre io sono lì capito che giustamente avevo piegato e così passa e Antonello venditti e mi dà uno schiaffo sul coppino e mi dice ah Fabio mi dice una roba tipo ma che vita del merda che fai una roba che si è proprio concluso nel modo più bello ma che vita del merda e poi è andato via lui sempre bello abbronzato con gli occhiari credo di avere riso per un'ora stupendo stupendo e poi adesso con gli autogrill sono in buoni rapporti non rubo più sono anche molto migliorati ultimamente andateci grazie mille prego prego grazie a voi ciao 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 Grazie per la visione!